Gruppon, da sempre attenta a quelli che sono progetti relativi alla beneficenza, anche in questo caso ha sposato una nuova iniziativa. Quale? L'iniziativa si chiama Star bene come a casa, stiamo finanziando assieme al Fatebene Pratelli il completamento della casa pediatrica. Ci sarà sul nostro sito dal 9 marzo al 5 di aprile una pagina dedicata in cui ci saranno più di 100 offerte e per ogni acquisto fatto da ogni utente doneremo 2 euro alla casa pediatrica del Fatebene Pratelli per cercare di aiutare il più possibile questa causa e completarla nel più breve tempo possibile. In questi anni le numerose iniziative di beneficenza alle quali avete partecipato e contribuito, quanto ricavato è stato comunque raccolto? Abbiamo donato in tre anni circa 380 mila euro a più di 20 associazioni sul territorio italiano legate a diversi progetti. Grazie a tutti.